preparatevi alla più bella partita di ched in lmc che voi abbiate mai visto zannax e lupo con altre tre persone casuali cosa succederà rimanete con lui rapporto vittoria sconfitte 1 3 tutto il resto dei trattini no mi hanno culato il crash ma che palle dentro in azione cerca i distruggi di cattiveria io vengo con te che da tutti i butti acqua ma io non ho silenzio di tomba due mid due mid vai tra io ne ho visti passare due mid però c'è un nostro compagno che guarda da di la quindi flinchiamo cioè full flinchiamo oddio dove è nascosto no l'ho vittato è scappato o sale sopra o mi esce da qua ho sentito un rampino è salito fuck mi ha sciolto sono due lì sopra due lì sopra due lì sopra guardalo questo icr merda oh l'ho hitto eh vabbè ci sta dai ho vinto tanta roba che odio canaglia bastardo un lavoro da manuale come da addestramento no il cazzo sono due sono due sono due due qua eh due b bom bom ok ah smirato aveva il rampart anche ah ecco questo spiega la bullshit che ho visto dal mio schermo si boh un po' si ma non gli sono entrati un po' di colpi già quindi io sto guardando ah no niente c'è solo lo invitano è l'uno è uno si è il mio cadavere cosa sa ti sei spaventato vabbè così così mi ci campero dentro suicidati no no lui deve pushare attenzione cazzo se ti faceva pure il secondo urlavo vabbè ne ha preso uno il punto è che con la mozza rosa eh che cosa devo fare ci lascia stare mi spacco che cazzo faccio fra eh buh pervi sudare abbiamo la bomba dai peggio merdoso la bomba è stata piazzata tg no oddio come l'hai scappato dov'è non l'ho visto ti giuro ma che cazzo di arma è questa un nemico rimasto quella che ha alfa dog è una gks ah però è quello quello strano è vero ottimo black ops avanti così e ce ne torneremo a casa ma io ti giuro che pensavo fosse lì proprio mi ha outbrainato tantissimo ah che bella adesso c'è la pace guarda te che numeri giusti ha fatto complimenti se sbagliavi erano casini esplodeva tutto ma tu mi spieghi perché io ho più obiettivi ho più danno del primo ma sono secondo con metà punti ma io il primo lo vedo con 1125 e obiettivo 2 si esatto però tu hai più danno è vero è vero esatto e che cazzo boh cazzo nooo merda mi ha sentito eh io ho beccato eh non pensavo mi tucciasse mi tucciate un 2 ah ti sto vedendo aiuto via dove è? bombato? io di puttana dove sei? uuuuh vai da nid secondo me ecco c'è un folle ok un altro è là è morto un nemico è rimasto vabbè ti prego per lì l'ho visto è attaccato il tipo ma il tipo non lo fa niente ma che cosa succede? ma cazzo ho visto dalla minimappa ma si ma addio ma non l'ho vista probabilmente stavo guardando te e pregando sto guardando proprio visuale pregavo e basta non so guardare l'altro io fra ma anche a te capita tipo adesso magari ti sembra strano perché non ti capita ma quando quando finisce la partita no? quando finisce la partita che c'è la roba del cambio round anche a te ti capita di vedere i cadaveri che cadono a caso si ma che senso ha mamma se lo sciolto via becca 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 io sono becca no io becca ti sto guardando eccolo è uno è scappato non esce più di qua hanno plantato i na quindi io giro è inutile stare qui il culo che ho ne ho uno dietro e non me ne accorgo fin quando non arrivo sulla bomba guarda vado tu hai la bomba io ho il mid e qui sono P1 ok se tu hai il mid siamo sicuri che dai il cut non passano no esatto bomba sta per esplodere quindi bollisciallo stanno ottenendo le streak ah si erano camperazzo beh sul 5 a 2 è una mossa intelligente devo dire attenzione la planta adesso vado di tempest non lo so usare ma non me ne ho fatto un cazzo mi metto dentro dentro qua al molo col tempest attivo sopra la finestra così se sbuca la testa di uno è morto adesso col culo che ho mi passano d'acqua guarda magari che piazzate oddio che questo col culo che hai fa un culo questo è l'alleato se mi ammazzo mi tiro una testata penso che mi rubi la kill poi sono gli altri sono da loro ce l'hai dietro pazzo eh non l'avevo visto figa vabbè quanto lagga sto matto madonna ho finito asciallo non si ti ammazzo la scemo morto dai ma che fai doveva lasciarmi al principio vediamo se lagga anche qua no io voglio vedere se si vede il pugno si guarda si si mi sta guarda come si muoveva dimmi che si vede il pugno oh dai è stato divertente però adesso mi ucciderà e andremo a uccidere a me poi qualcuno ucciderà qualcun altro anzi mi lancio fuori dalla mappa direttamente come se qualcuno faccia qualcosa no scappa ah no ok sono superiori a me no invece no no lo sapevo ecco e vado non l'hai ucciso lo so che non l'ho ucciso ma si uccidono tra di loro ma super dog ma tu hai ucciso me ma perché tu sai sparare solo agli alleati cristo ma che gli sparano sul cadavere figara ha vinta addio cristo ma sono un team da 5 dove è super dog vabbè dai tiro fuori la war machine vado prima di data bene in A secondo me tornano in A ma cosa ti sta bene con noi ma perché io vedo i nemici lupo ma tu stai ancora giocando dove sei aspetta no ti vedo ne hai uno mi d'alto due mi d'alto Mufasa ti passa sotto ok c'è Mufasa che va B dal cat è sulla bomba è Pietro Levy no che stronzo ci sono questo ok ti miro e ti uccido ma adesso mi push è sicuro eccolo là è proprio visto moment timing moment moment timing bastardo se mi ammazza qualcuno di nuovo giro che pianto un bestemione no siamo già siamo già è gioinato alfa dog però non sta giocando fighe è l'ultimo round eh esatto quindi gran calma sono tutti di là di no? boh planchiamo rapidi 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 sono in giro con l'r caspa bomba attiva merda no dai che minchiata dai ma bastardo vaffanculo ti uccido no ti prego lo lascia splantare bomba disinnescata vittoria per le forze ecco il mantello rosso guardate e boh rotti